Mi vedete in una veste inedita, sono all'interno di una Skoda Fabia Direte, perché è una Skoda Fabia? Ti sei messo a roba a fare le pubblicità delle macchine? No, no, sono dentro una Skoda Fabia per un altro motivo È partita ufficialmente la campagna Sempre con me Una campagna che promuove alcuni prodotti legati alla sicurezza personale Per dire stop alla violenza sulle donne e al bullismo Skoda D&G Modena ha aderito all'iniziativa E Robby, per ogni macchina acquistata regaleremo uno spray al peperoncino offerto da D&G Modena Sempre con me, per la vostra sicurezza, in macchina e non solo Grazie a tutti! Grazie a tutti!